E' questo cane? Oh, santo cielo! Le dollari compense! La ringrazio tantissimo! Come vanno gli affari con i rapimenti dei cani? Un cane nuovo? Dove lo stavi portando, Charest? Ho sempre amato Bonnie come se fosse mio figlio! Primo, non voglio avere quell'immagine, nella mia testa, secondo potresti andare a riprendermi il mio cane. Ehi, che diavolo è successo? Dei teppisti ci hanno aggredito. E voi che siete? Hanno detto che stavano cercando uno schizzo. E poi un altro balordo ha ucciso quelli di prima. Quello è il loro sangue. E quello è il suo vomito. Vogliamo andare al bagno a lavar via un po' di quel sangue e il vomito? Sì. Mi hanno quasi ucciso perché hai rapito il cane sbagliato. Ma dici sul serio! Wow!